Proseguono le intense trattative della dirigenza bianca-azzurra e la settimana prossima si passerà alla firma delle operazioni. In questo fine settimana il DS Dell'Icarri e il DG Lucchesi si relazioneranno con la proprietà. Gli obiettivi sono sempre gli stessi. Per l'attacco la prima scelta è diventata Elvis Abruscato del Torino. Ieri Dell'Icarri ha incontrato Paolo Scotti, procuratore del calciatore. Si è parlato soprattutto di cifre ma anche di motivazioni. Abruscato è infatti reduce da una stagione poco brillante in Granata e può vantare ancora un altro anno di contratto. Il presidente Cairo dovrà quindi aiutare il Pescara nel pagamento dell'ingaggio o versando una sontuosa buon'uscita alle calciatore. Nella lista subito dietro ecco i soliti Bruno e Moscardelli ma interesserebbe anche Pellicori appena liberatosi dallo scomparso Mantova esattamente come il centrocampista Carrus, altro pallino di Di Francesco. In mediana proseguono le trattative per Edoardo Catinali, pronto un triennale. La prossima settimana il Pescara tornerà all'assalto del giuliese migliore. Intanto va registrata la dura presa di posizione della tifoseria organizzata nei confronti dell'introduzione della tessera del tifoso. I Pescara Rangers annunciano il boicottaggio compatto della campagna abbonamenti.